Porteremo tutto in Corea per un esame approfondito. O'Neill, ho fatto con i piloti. Andiamocene da qui! O'Neill, ho fatto con i piloti. O'Neill, ho fatto con i piloti. Sono inglese, Muppet. Prendi. Saluta i tuoi amici, bello. Questa roba è troppo pesante. Mi servirà della spinta extra. Questa roba è troppo pesante. Questa roba è troppo pesante. Questa roba è troppo pesante. Merda! Contatti su tutto il radar! È un maledetto sciame! Dobbiamo andarcene da qui! Beh, credo che sia proprio finita. Lo è adesso JTAC, qui Sierra 2 L'ultimo VTOL sull'isola In rotta per la Costitution Stiamo tornando a casa Tutto bene, bello? Hai disarmato la testata Ecco il mio Nomad Pensa sempre prima alla missione Forza, andiamocene da fuori Grazie a tutti 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 Grazie a tutti